Tragedia in Agropoli, questa mattina ha perso la vita l'imprenditore sessantenne Alessio Merola, originario del comune cilentano e titolare di una ditta di costruzioni edili. La disgrazia è in via Pasquale Voso, dove l'uomo dirigeva il cantiere relativo alla ristrutturazione di un edificio. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, per cause ancora da accertare, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio, scivolando da un'impalcatura durante le operazioni di carico materiali con la gru, precipitando nel vuoto e terminando su di un camion sottostante. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Francesco Manna, che hanno sequestrato l'area di cantiere ed avvisato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Sul luogo della tragedia anche il sindaco di Agropoli Adamo Coppola.